Come prima regola cerco di non restare da solo, soprattutto se voglio alzarmi dal letto, lavarmi e vestirmi. Qualche volta addirittura se devo andare in bagno. E poi tante altre. Non ballo, non corro, non faccio mai due passi. Tornando indietro non avrei usato il telefono mentre guidavo. Rispetta le regole della strada, eviterai regole più dure. Fondazione Ania, le assicurazioni per la sicurezza stradale. Pensa a guidare. Grazie a tutti.